FESTIVAL SHOW 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 La nostra ospite di oggi in giuria è Abba. Senti Abba, te lo chiedo forse un po' per analogia. Un talent show per un cantante, cioè può servire, può essere più efficace per mostrarsi al pubblico, per emergere, oppure comunque soltanto una pillolina in più? Seconda è la seconda che hai detto, cioè è il giusto mezzo di visibilità per un talento e una costruzione del talento che c'è stata negli anni precedenti. Sicuramente è molto utile, nel senso che sia i talent locali che poi anche i talent televisivi come ho fatto io, possono dare molta esperienza e più sicurezza sul palco. Per cui con un talento di base, con una costruzione, con lo studio, il talent può dare lo spicco per poi volare. Quindi da festival show, casting in questo caso, anche verso la televisione, come sempre, in tutta Italia. Grazie Abba, ciao! Grazie alla direzione, grazie alla sicurezza, sono stati fantastici. Un applauso a loro che ci hanno ospitato davvero, che ci hanno sopportato i negozi, i negozi di ritorno. Grazie davvero! Grazie a tutti! Grazie a tutti!